Tanti auguri a tutti voi, amici del Federiciano e amici di Giuseppe Aletti, mi ci metto proprio io nel mezzo. Io vi auguro veramente un felicissimo Natale e un 2017 sicuramente migliore di un 2016, non ci vuole neanche molto. Io credo che forse il regalo più bello che una persona possa ricevere o possa donare in questo momento siano quattro righe, una poesia, qualcosa che viene dal cuore e arriva al cuore direttamente. Sono felice veramente di aver fatto parte di questo meraviglioso carrozzone culturale e splendido in una cornice meravigliosa come il Castello di Rocca Imperiale. Il Federiciano, tanti auguri, Festival di Poesia, il primo Festival di Poesia in Italia veramente che ti dà i brividi.